Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Questa sera parleremo di qualcosa di interessante e imminente, direi. Nessuno ci crede forse tanto, ma ne parlano tantissimi. Siamo vicino alla scadenza fatale. Secondo una profezia maia, il 21 dicembre 2012 tutto dovrebbe finire. Ne parliamo questa sera perché siamo in compagnia di un esperto delle popolazioni precolombiane quindi cercheremo di capire davvero che cosa intendevano i maia quando hanno lanciato questa profezia. Magari vedremo che, cercheremo di capire che forse per loro il tempo veniva suddiviso in cicli e che quella scadenza dovrebbe rappresentare la chiusura di un ciclo e forse l'inizio di un altro. Ma tutto questo sarebbe meglio vederlo con il nostro ospite che voglio salutare. Ringraziate per aver accettato l'invito. Siamo in compagnia dello scrittore Vincenzo Reda, che ringrazio per essere qua. E che è, dicevo, l'artefice di questo libro scritto ed edito da Mondatori, che sono 101 storie maia. In realtà, ascoltando il nostro pubblico che ci scrive attraverso le mail e che ci indica, anche, ci richiede qualche volta le trasmissioni, ovviamente si è fatta vicina la voglia di parlare, si è fatto sempre più forte la voglia di parlare di questo argomento, perché comunque ci stiamo avvicinando al 21 dicembre. Però è interessante parlare con lei di questa popolazione che da anni la studia, perché è esperto di civiltà precolombiane, in particolare dei maia. Allora, vogliamo intanto inquadrare questa popolazione. Allora, partiamo dall'inizio, quindi spazio-tempo. I maia sono popolazioni che esistono ancora oggi, ovviamente, sono circa 7-8 milioni, distribuiti tra Messico del Sud, Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras. La superficie più o meno geografica è di circa 350-400 mila chilometri, un po' più grande dell'Italia. Gli ecosistemi sono vari e molto fragili, perché c'è la penisola piatta del Yucatan, che è una penisola carsica, arida, che presenta nelle stagioni delle piogge i cicloni, anzi gli uragani. Uragano è una parola di origine maia, huracan, quindi arriva nella nostra lingua tramite i maia. Poi c'è la foresta vergine del Petén, che è una specie di Amazzonia. e poi ci sono gli altipiani del Guatemala. Ecco, questa è più o meno l'area che ha visto svilupparsi la cultura maia. Ecco, è questa qua, probabilmente in questa cartina viene rappresentata. Esatto. Guatemala, Yucatan, eccetera. Allora, per dare un'ulteriore indicazione, l'America come l'Australia sono stati gli ultimi continenti popolati dall'uomo, circa 40-50 mila anni fa, mentre invece Africa, Asia e Europa l'uomo praticamente due milioni di anni fa già scorrazzava per le nostre terre. La civiltà maia comincia a evolvere, i primi villaggi sono del 2000-2500 avanti Cristo e si sviluppano molto sulla costa pacifica, perché sulla costa pacifica si ha una coltivazione endemica, quindi del posto, che a noi piace parecchio, il cacao. Il cacao è una faccenda assolutamente maia. Poi ne parleremo quando parliamo di alimentazione, così come il peperoncino che è endemico delle foreste del Petén, così come i fagioli e l'avocado. Ecco, sono proprio prodotti tipici dell'alimentazione maia. In realtà siamo molto più influenzati dai maia di quello che possiamo pensare. Sì, perché poi non ho parlato di mais, il mais viene domesticato nel nord del Messico tra il quinto e il terzo millennio avanti Cristo. Voi dovete sapere che il mais, assai più del riso, è il prodotto vegetale più coltivato, non più mangiato, più coltivato, perché mentre il riso serve solo per l'alimentazione dell'uomo, il mais contribuisce a alimentare animali domestici, farine di mais alimentano anche i pesci purtroppo e poi serve per tante altre preparazioni. Senta, allora, certo, arriveremo poi a parlare anche della profezia famosa, però io ho visto il libro, purtroppo non sono riuscita a leggerlo tutto, però ho sbirciato molto e ho visto tante cose interessanti perché c'è un approfondimento effettivamente da ricercatore, da storico su questa popolazione. Ma mi sbaglio o c'è una sorta, c'era per loro una sorta di atteggiamento che oggi noi definiremo ambientalista da parte dei maia? Qual era il loro rapporto con l'ambiente? Ma dunque, tutti i popoli che ci hanno preceduti, diciamo, da cent'anni in là, da cent'anni ad andare indietro. In realtà non si ponevano il problema dell'ecologia, l'unico problema era cercare di trarre dall'ambiente quelle che erano le risorse che a loro servivano per vivere. Quindi innanzitutto il cibo, poi il materiale da costruzione e poi l'energia. I maia classici, perché parliamo di cultura maia classica, cioè quella che evolve tra il secondo secolo avanti Cristo e il decimo secolo dopo Cristo nelle foreste del Petén, del Guatemala e del Chiapas, del Messico. Quella cultura è una cultura particolarissima perché in un ecosistema così fragile seppe evolvere e sviluppare un tipo di civiltà praticamente a livello massimo, a livello dei greci. Quindi con manifestazioni sia artistiche, sia filosofiche, con una cosmogonia particolare, con una religione particolare, con una scrittura, i maia furono l'unico popolo dell'America precolombiana a sviluppare una scrittura che oggi abbiamo quasi completamente decodificato. È una scrittura di tipo logografico. Non completamente ancora. Non completamente. Sono stati gli ultimi vent'anni. Ok, stiamo parlando di una civiltà molto sofisticata, molto complessa. Certo, che scriveva di poesia, che faceva della musica, con un grande gusto per l'abbigliamento. Ecco, è una questione molto importante. I maia avevano un gusto particolare per le calzature, per le acconciature. I loro perizzoni sono bellissimi. Purtroppo l'archeologia non ha conservato nulla, perché in un ambiente tropicale tutto quello che è organico va in dissoluzione veloce. Ecco, a proposito, lei parlava anche di manifestazioni artistiche, di oggetti molto belli. Io ho trovato tra i suoi racconti, quelli che lei ha definito racconti di argilla, dove vengono segnalati queste ceramiche fantastiche che sono state definite tra le più belle opere artistiche fatte dall'uomo. Sì, le ceramiche maia, oltre ad essere assai belle, assai elaborate, hanno una caratteristica che è abbastanza unica. Sono come dei libri. Ah, cioè raccontano qualche cosa. Esatto, esatto. Cioè, sulle ceramiche maia, noi oggi sappiamo, negli ultimi venti anni, abbiamo scoperto, grazie a alcuni studiosi, che in realtà quelle che sembravano, che parevano decorazioni, sono vere e proprie scritture che raccontano di re, di regine, di matrimoni. Dove si possono contemplare queste ceramiche? Allora, i musei meglio forniti al mondo sono innanzitutto il museo di antropologia di Città del Messico e poi il museo di antropologia di Guatemala City. Questi sono quelli che più hanno... Ovviamente poi nei siti maia, per esempio Tical, ci sono dei piccoli musei che hanno dei reperti molto belli, con delle tombe, eccetera. Ecco, una cosa importante, fino a qualche anno fa si diceva, ah, la differenza tra le popolazioni precolombiane e gli egizi è quella che le piramidi egizie erano in realtà dei monumenti funebri. Quelle maia erano dei templi. Fesseria. Oggi abbiamo scoperto che anche i maia erigevano le piramidi sopra tombe dei grandi sobrani. erano anche per loro dei monumenti funebri. Senta, in realtà io avrei tante domande, però siccome so che siamo strettissimi nei tempi e stiamo per ultimare la prima parte, vorrei lasciare spazio alla pubblicità. Le faccio presente che lei in questo libro ha parlato anche di storie di corna, quindi accenderemo anche a quelle. Allora facciamo così, due minuti di pubblicità, poi torniamo. Ecograffi è una nuova redazione multimediale che crea e realizza programmi televisivi e video interviste. Ecograffi valorizza la tua attività in campo medico, ambientale e sociale, curando l'approfondimento giornalistico e l'attualità delle informazioni. Siamo a Torino, visita il nostro sito www.ecograffi.it o contattaci alla mail ecograffichiocciolagmail.com. Ecograffi, la tua redazione online. Cronaca qui è il tuo quotidiano in edicola a 40 centesimi. Con Cronaca qui più inchieste, più notizie. Cronaca qui è la voce dei cittadini, il quotidiano che parla della tua città, della tua strada e se vuoi anche di te. Corri in edicola, Cronaca qui ti aspetta. Cronaca qui è il tuo quotidiano in edicola a 40 centesimi. Bene, seconda parte di Antropos che questa sera abbiamo dedicato alla popolazione maia. siamo in compagnia dello scrittore Vincenzo Reda che è artefice di questo libro pubblicato da Mondadori, divulgativo proprio sulla popolazione maia. A lei stavamo chiedendo, prima di arrivare a parlare della famosa profezia, tutta una serie di cose che riguardano questa popolazione così sofisticata, direi. I loro meccanismi erano molto complessi. Tra l'altro ho visto che una sorta di straccio di questo libro si trova anche su Focus Storia con cui lei partecipa, cioè con cui lei collabora. Allora, accennavamo, adesso abbiamo parlato del loro rapporto con l'ambiente, con l'arte, ma ci sono in questo libro, data la profonda conoscenza della popolazione, anche una sorta di cose che secondo me però sono intriganti. Lei a un certo punto ha parlato di storie di corna, che cosa vuol dire? Forse c'era del gossip già allora? Sì, sì, dunque, no, gossip. Allora, i costumi sessuali normalmente delle popolazioni che non hanno subito dei forti condizionamenti da religioni particolari come la nostra sono abbastanza liberi. Le donne maia avevano diritti abbastanza simili a quelli degli uomini. Quindi erano degli illuminati? No, ma illuminati, erano dei semplici che cercavano di ragionare con buon senso poi alla fine dei conti. Noi sappiamo di principesse, di regine maia molto importanti che hanno fondato delle dinastie e sappiamo che i loro costumi erano piuttosto semplici, loro si sposavano in maniera semplice, si lasciavano in maniera semplice. Le corna, allora, se il marito scopriva che la moglie lo cornificava, semplicemente la metteva fuori di casa se aveva voglia e la questione finiva lì. Se il marito scopriva la moglie in fragrante reato, poteva prendere il cornificatore, andare dalle autorità maia e aveva la possibilità di ucciderlo. C'era un rito particolare, l'uccisione di un cornificatore, questa è una delle cose che ci racconta Diego De Landa che è stato un sacerdote che arrivò in Yucatan nel 1500. L'uccisione avveniva tramite di un masso che veniva precipitato sulla testa del poveraccio. Quindi questo funzionava solo per gli uomini, le donne tutto sommato. Le donne tutto sommato. Era un po' più matriarcale come società. Era una società mista, non puramente matriarcale. Senta, invece un'altra cosa che mi ha colpito riguarda i sacrifici, perché lei in questo libro spiega che erano richiesti solo ai nobili. Innanzitutto come era suddivisa la popolazione? Esistevano caste? Sì, allora c'erano innanzitutto i contadini che erano la base che sostentava tutte le caste, quelle che non facevano nulla. Quindi il contadino coltivava soprattutto il mais, l'orto e forneva da mangiare. Poi religione, guerra, arte, eccetera, erano faccende che riguardavano le classi dominanti, quindi sacerdoti e nobili. La cosa interessante che può essere così curiosa per il periodo che noi stiamo vivendo, periodo storico, è che i maia i sacrifici, quindi la donazione del sangue, perché loro pensavano che gli dei molto crudeli, dei fatti su misura per un ecosistema crudele, difficile come la foresta, quindi dei crudeli, esigessero il sangue degli uomini. Il sangue dovrebbe essere... Era poi il rapporto che si aveva con gli dei, insomma. Certo, il sangue dovrebbe essere però sangue prezioso. Quindi ai contadini non si richiedevano sacrifici, poi loro li facevano, si tagliuzzavano le orecchie, eccetera, però i sacrifici quelli più cruenti e anche i sacrifici umani erano oggetto solo delle caste nobili. Anche da questo punto di vista, insomma, l'aspetto sociale... Durante le guerre, più che ammazzarsi, che poi erano scaramucce perché loro non conoscevano la ruota, non conoscevano i metalli. Quindi erano scontri fisici. Si azzuffavano nelle giungle, lungo i fiumi. Certo. E in realtà più che uccidere l'avversario, sterminare l'avversario, lo scopo era quello di catturare il capo per poi sacrificarlo agli dei, che molto apprezzavano il sangue nobile. Era costume di nobili e sacerdoti, in periodi particolari, fare gli autosacrifici. Quindi cercare... Questo aveva ancora più valore fare l'autosacrificio? Certo. Che consisteva in cosa? Allora, loro avevano dei sacrifici terrificanti, terribili. Allora, uno di quelli più diffusi era infilzarsi la lingua con uno stelo d'erba e spremerne sangue. Il sangue poi colava dentro un pezzo di foglia che veniva bruciato. Uno stelo d'erba era una rivisitazione poetica? Cioè, probabilmente era uno spillo? No, era proprio un filo d'erba. Il filo d'erba è taglientissimo. Infilato a un buco nella lingua, si tagliavano la lingua. L'altro che sembra sconveniente trattarlo, i sovrani si infilavano delle spine d'agave o delle spine di razza dentro i genitali. Perché il sangue che spillava dai genitali era ritenuto ancora più prezioso. Spero che gli dei gli fossero molto riconoscenti. Non è mica tanto, perché poi erano abbastanza crudeli. Di tutte queste faccende, ovviamente, noi abbiamo traccia nei documenti maia, soprattutto sulle piramidi, sui vasi. Perché venivano documentati, raccontati. Ma non erano solo, non riguardavano solo gli uomini, riguardavano anche le donne. Anche le donne. Non voglio saperlo. Cosa veniva fatto alle donne? Se posso scegliere, non voglio saperlo. Non se lo facevano da sé. Beh, perché aveva più valore, ovviamente. Certo. Senta, che cosa si intende per la guerra mondiale? Allora, noi oggi sappiamo, bisognerebbe, la questione è complessa. Allora, fino agli anni 70, un grandissimo studioso maia, un inglese, che si chiamava Eric Thompson, aveva questa idea che i maia fossero un popolo pacifico, che osservavano le stelle. Tutti hanno un po' questa conoscenza. Idea completamente errata. Quando finalmente Thompson passò a miglior vita, in realtà arrivò una nuova generazione di studiosi che si mise a ricercare davvero senza preconcetti e scoprì che i maia erano semplicemente delle popolazioni come le altre. Bellicose come le altre. Se le davano di santa ragione. Ora, con la decifrazione della scrittura e Thompson praticamente osteggiò la decifrazione della scrittura maia. Perché? Per questioni molto complesse. Gli studiosi certe volte vivono di loro suggestioni. Chissà quale fantasia rincorrono, certo. E Thompson purtroppo osteggiò questa decifrazione che sarebbe partita 30-40 anni prima. Devo dirlo perché è una curiosità. Il principale artefice della decifrazione della scrittura maia fu un artigliere sovietico che arrivò a Berlino durante la presa di Berlino nella seconda guerra mondiale, trovò dei codici maia e cominciò a, lui era ovviamente uno studioso di lingue, e cominciò a decifrarle. Pubblicò degli articoli che Thompson subito criticò come fesserie. Morto Thompson, i giovani studiosi fecero riferimento a questo sovietico che si chiamava Yurik Norozov e finalmente la scrittura maia cominciò a raccontarci delle vicende normali di tutti i popoli e quindi di battaglie, di guerre, di sovrani che arrivano al trono, di alleanze, eccetera. Senta, prima di arrivare a parlare della profezia, perché poi non dobbiamo fare l'errore di dimenticare il motivo per cui era nata questa trasmissione, mi racconti se possibile, io abbiamo poco tempo ma insomma vorrei sapere dello spagnolo rinnegato, chi era? Questa è una storia che mi sta molto a cuore, lui si chiamava Gonzalo Guerrero, era uno spagnolo che aveva combattuto in Europa, era andato nelle Americhe a Cuba intorno al 1510, quindi prima di Cortes, naufraga insieme ai compagni, i compagni vengono quasi tutti uccisi e mangiati perché allora lungo le coste dei Caraibi erano cannibali, lui e un altro sopravvivono, l'altro è un prete, sopravvivono, lui riesce a entrare nelle grazie di un capo, ne sposa la figlia e praticamente si fa, diventa maia, quando arriva Cortes sente parlare di questi due spagnoli, gli fanno comodo perché conoscono la lingua e li fa cercare, il prete accetta e sarà poi il primo interprete di Cortes, Gonzalo invece quando arrivano gli spagnoli a dire vieni con noi, gli dice no, io ormai sono maia, ho tre figli e probabilmente quei tre figli sono i primi incroci tra gli europei e i maia e poi lui combatte contro gli spagnoli e morirà nel 1536 colpito da un colpo di archibugio durante la guerra tra i maia e gli spagnoli in Yucatane, ed è una bella storia. Senta allora adesso in chiusura dobbiamo effettivamente cercare di capire se il 21 finisce tutto oppure no, che cosa vuol dire? Allora l'assassino, il colpevole, lo possiamo svelare alla fine, fu un americano che si chiamava Joseph Anthony Argelles, un americano del Minnesota, uno professore di storia dell'arte, che in epoca New Age, 1985-86, scopre questa faccenda dei cicli maia, va in Messico, incontra un santone e comincia a farsi dei fantastici, come si dice volgarmente, trip, anche perché abusava di sostanze stupefacenti. Era una persona molto in gamba. E pubblica un libro. Da questo libro, pubblicato nel 1986-87, comincia tutta questa faccenda. In realtà i maia avevano diversi calendari che erano ciclici, perché il concetto maia del tempo era un cerchio che si chiude, si apre e si chiude. I cicli piccoli erano l'anno sacro, l'anno solare, eccetera. Poi c'è questo grande ciclo che dura 13 Bactun, ovvero sia 5125,37 anni. Attenzione, le correlazioni degli studiosi con il nostro calendario dicono che questo ciclo è cominciato l'11 agosto del 3114 e finirà il 21 dicembre... Avanti Cristo e finirà il 21 dicembre. Sì, il 21 dicembre 2012. Ma questa è una correlazione. Certo. Non da tutti accettata. Ci sono alcuni studiosi che per esempio dicono che in realtà è 13,23. Quindi non è neanche l'unica interpretazione. Assolutamente no. Però possiamo dire che secondo la loro concezione i cicli terminavano per dare inizio a un nuovo ciclo. Certamente. Ovviamente i maia non facevano profezie, i maia si facevano gli affari loro. Sì. 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 Sì.